E chiamiamo sul ring, all'angolo blu, da Roma, Andrea Pesce! Contro di lui, all'angolo rosso, da Corato di Pari, Felice Mancelli! All'angolo blu, in pantalocini nero-oro, al peso di 72 kg, con un record da professionista formato da 5 incontri disputati, 2 vittorie e 3 sconfitte per lui. Al suo angolo, Italo Mattioli, Luigi Ascani e Paolo Moresi, per la BBD Production, da Roma, Andrea Pesce! Contro di lui, all'angolo rosso, in pantalocini neri, al peso di 70 kg e 800, con un record da professionista formato da 11 incontri disputati, 7 vittorie per lui, una delle quali per KO, 3 sconfitte ed un pari. E' lo sfidante ufficiale al titolo italiano dei pesi Superbelter, al suo angolo, Simone D'Alessandri, Sebastiano Moncelli, per la BBD Production, da Corato di Pari, Felice, Faccia d'Angelo Moncelli! E' la prima ripresa! D'accordo, eh! D'accordoullah! Vai pai, non damлично pai! Dai, dai! Noi possiamo in montante vedere il film. No, ma dentro! No! No, ma dentro! No! No, ma dentro! No! 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 Don! Don! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. È la seconda ripresa. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Vince a tutti.